Il desiderio di condividere i valori di pace e giustizia per tutti gli uomini e per la creazione attraverso azioni importanti anche durante il tempo delle vacanze, come rispettare con la pulizia i boschi, le pinete, le spiagge, i luoghi panoramici, le piazze, i vicoli e le strade dei nostri fantastici paesi, ridurre la nostra impronta di carbonio, dunque gesti e scelte che ci rendono operatori di giustizia e pace. Sono al centro del messaggio che Monsignor Francesco Moscone, arcivescovo di Manfredonia a Vieste San Giovanni Rotondo, ha rivolto ai turisti che in numero sempre maggiore hanno scelto il Gargano, dice il Presule, territorio ricco di natura e di testimonianze preziose di fede cristiana, di arte e di storia che custodisce due originali santuari della cristianità, quello dell'Arcangelo Michele, il più antico a Monte Sant'Angelo, e quello di San Pio da Pietrelcina, il più recente a San Giovanni Rotondo. Bellezze che sono occasione preziosa per imparare a vedere la presenza della bellezza ovunque e sempre, dice il Presule, anche in vacanza siamo chiamati a unirci al grande silenzioso fiume di pace e giustizia, a sentirci impegnati per la giustizia climatica, invocandola non solo per gli esseri umani ma per tutta la creazione, attraverso un cambio radicale dei nostri atteggiamenti e delle nostre azioni, dettate quasi sempre da un consumismo egoistico. L'invito di Padre Moscone è quello di essere autentici operatori di pace, pensando e avendo comportamenti improntati tutti alla logica del bene comune. Così al ritorno nelle vostre città e alla quotidianità, conclude il Presule, attesterete di essere non semplici fruitori, ma veri custodi di bellezza.